Sei contento? Ci hanno detto che è quasi fatta? Sì, sì, sì. Sono felice. È una bella soluzione per te? Sì, sì, sì. Trovi ancora la Champions? Sì. Messi, Amsic. No, morvedì. Non prestito Goran, ci confermi? No, abbiamo parlato così, adesso ancora non è... Com'è nata questa trattativa? Ah, non lo so. Napoli mi voleva anche di prima. Hai avuto voglia di lasciare l'Inter? No, però... Vediamo, è un'altra esperienza, vediamo. L'importante è che sono felice. E tu sei fischi in questo momento? Sì, sì, sì. Molto. Cosa ti aspetti di trovare dall'esperienza a Napoli? Eh, non lo so, vediamo. È una bella... Una grande squadra e vediamo. C'è un bel ambiente e adesso vediamo. Hai parlato con qualche compagno perché c'era Bigoni in sede? No, c'era solo direttore e basta. Quando pensi di andare? Nei prossimi giorni? Sì, sì, vediamo adesso. Grazie. Ciao.